Il video di oggi comincia con un bell'insulto e vi sembra niente, a voi l'altro giorno mentre giravo per il mio canale YouTube attraverso i commenti mi sono imbattuto in questo commento qua, come vedete questa bella persona mi augura il meglio, questo è un commento trovato sotto il video in cui ho spiegato il motivo del mio licenziamento in quel video ho detto che ho deciso di lasciare il lavoro per seguire le mie passioni, sì, assolutamente, ma non è soltanto quello chiaramente io ringrazio questo tizio perché, vi ripeto, come vedete mi augura il meglio, ma chi se ne frega perché grazie a lui comunque ho avuto risperazione per questo video video che monetizzerò, quindi grazie, grazie amico mio ma procediamo per step, cosa andremo a fare in questo video? Voi l'avrete già letto dal titolo e visto dalla copertina voglio portarvi con me voglio spiegarvi un po' come si sviluppa la mia giornata tipo, perché sì, mi sono licenziato, ho molto più tempo per me ma questo non vuol dire che lo passo ad ozziare o a fare video a cavolo su YouTube, assolutamente no adesso vi faccio vedere il messaggio del mio migliore amico, guardate qua beh, sicuramente devo studiare, devo studiare un botto, eh sì, perché ho deciso di mandare il lavoro sicuramente per seguire le mie passioni ma anche per investire un po' più su me stesso, mi sono rimesso a studiare programmazione informatica è veramente difficilissimo, però insomma, non si molla niente, ma no spoiler, continuo a seguire il video fino alla fine il giorno dopo, come tutte le mattine, mi sono svegliato verso le 8, senza strafare niente telefono e social appena sveglio, è un'abitudine che sto cercando di rispettare da un po' e ve lo straconsiglio tappa veloce in bagno? sì, vabbè, quando è finito avvisati, così continuiamo, eh grazie, troppo gente a colazione, cappuccino caldo buongiorno mentre si scalda il latte, mi vesto con una tecnica suprema che starete sicuramente vedendo adesso e poi mi prendo 10 minuti per fare colazione, rigorosamente con le gocciole papesi, se stai guardando questo video, sai cosa fare dopodiché, passeggiatina easy, un chilometro circa, senza esagerare giusto per svegliarmi un pochino e riattivare i muscoli dopo la nottata prima o poi andrò a correre la mattina, ma con calma, eh step by step torno a casa e faccio un po' d'attività fisica, solitamente plank o piegamenti nel primo caso un minuto di esercizio, 30 secondi di riposo per 5 volte ma andiamo avanti, vi evito la noia ore 9, tempismo perfetto sono alla schievania, è tutto pronto e vi dico che io attualmente sto studiando, sfruttando la 4 training una scuola di web che si trova a Roma io l'ho già frequentata anche fisicamente, circa due anni fa poi per dinamiche mie personali, quel progetto non è più andato a buon fine e ho trascurato un pochettino gli studi ma adesso posso seguire le stesse lezioni direttamente dal computer e questa è una cosa che potrete fare voi adesso vi spiego un pochettino chi è l'app for training, cosa fanno e poi ci lasciamo per un po', mi metto a studiare anzi, prima vi faccio vedere anche il setup con il quale lavoro la scuola organizza sempre molti sconti e molti open day per farvi capire un pochettino come funziona il tutto prima di iscrivervi effettivamente e poi vi mette a disposizione una sezione chiamata l'app for you in cui avete acceso tutte le dispense che volete ad esempio vi faccio vedere qua HTML, CSS, JavaScript e jQuery, grafica per il web corso UIUX, JavaScript avanzato, Responsive Designer, PHP, AJAX, Bootstrap, Angular e Ionic questo è il pacchetto che ho acquistato io per ogni argomento potete vedere il calendario delle lezioni, il materiale didattico e chiaramente ci tengo a precisare che tutte queste dispense potete sfruttarle anche dopo il corso, restano vostre tranquillamente poi si può andare a esaminare i propri file ma soprattutto le video lezioni molto utile, ad esempio io a distanza di due anni ho ancora accesso a tutto questo ben di dio perché in realtà questo è, è vero, sì, è costato il corso però adesso posso riguardarmi tutto lezione per lezione sia chiaro non è un ADV, non mi pagano per dire queste cose ma è un corso che ho frequentato, mi sono trovato molto bene i docenti sono super in gamba e ho voluto parlarvene tutto qua e se volete approfondire il discorso, link in descrizione adesso al volo vi faccio vedere come gestisco il mio lavoro qua sulla scrivania ma poi devo mettermi a studiare che è già abbastanza tardi allora qua ho la pagina delle offerte Amazon che pubblico sul mio canale appunto se non siete ancora iscritti iscrivetevi altra pagina web con già pronto un nuovo articolo per tech.it con qualche fonte, qualche fonte americana abbassando queste due schermate ho la schermata del codice con tutto quello che faccio in tempo reale dal portatile da sotto seguo le video lezioni e questo è quanto adesso però vado a studiare e ci vediamo verso la di pranzo ok video lezione terminata adesso pausa pranzo e poi mi riposo un pochettino solitamente fino a verso le 15 dopo di che si inizia a lavorare per tech.it e iPhoneItalia.com si lo so praticamente mi sono licenziato e non faccio altro che lavorare anche da disoccupato pensavate fosse più interessante la mia routine sono le 15 basta cazzeggiare è ora di tornare al lavoro più tardi sarei voluto anche andare a correre il problema è che il tempo fa abbastanza schifo non lo so vedremo vedremo più tardi come sarà di solito pomeriggio verso le 18 vado a correre però oggi la vedo dura allora che cosa devo fare per tech iPhoneItalia penso di poterlo dire in questo momento stiamo organizzando un database su tutti i nuovi contenuti che dovremo poi svolgere da qui in avanti a cascata e devo cominciare anche a scrivere la recensione di questa Huawei Band 6 che mi è arrivata qualche giorno fa e più gli classici video insomma che vedete poi solitamente su tech spero che mi seguiate anche là mi raccomando fate i bravi ora è 16.51 sto finendo di scrivere la recensione sulla Band 6 di Huawei che vi ho appena detto e nel frattempo mi sono anche accordato di dover partecipare ad una riunione con Fitbit la cosa figa è che queste cose posso dirvele tranquillamente anche se sono sotto embargo perché tanto questo video uscirà dopo tutti i contenuti attualmente sotto embargo quindi alla grande mi sa che non riuscirò ad andare a correre oggi sì è vero ieri sera ho fallito non sono riuscito ad andare a correre ma questa mattina ho rimediato mi sono allenato veramente per bene ho corso, ho fatto corpo libero sono molto contento perché per quanto mi riguarda meglio fallire e poi vincere riprovandoci piuttosto che continuare a vivere con il rimpianto di non averci nemmeno provato e questo vale per tutto non solo per voi stessi comunque ricordatevi sempre fate di tutto per inseguire le vostre passioni perché il tempo che perdete non ve lo ridà nessuno ciao 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 ciao